Buonasera amiche, buonasera amici di Rossini TV, benvenuti in questo approfondimento che dedichiamo a un argomento molto interessante che possiamo vedere insieme a voi grazie alla CNA di Pesaro e Urbino. Si tratta di un progetto che si chiama progetto Idea Impresa, è un progetto che già da qualche tempo è attivo nella nostra provincia, per vedercelo spiegato meglio, abbiamo chiesto immediatamente la collaborazione e l'aiuto di Moreno Bordoni che è il segretario di CNA Pesaro-Urbino. Idea Impresa è un progetto ideato e realizzato dalla CNA di Pesaro-Urbino destinato alle nuove attività, alla nascita di nuove attività meglio conosciute come start-up, soprattutto se condotte da giovani e da donne. Giunto ormai al suo secondo anno di attuazione ha un duplice obiettivo, da un lato quello di supportare le idee progettuali nuove imprenditoriali e dall'altro invece di accompagnare il necessario ricambio generazionale di cui tanto bisogno hanno le aziende del nostro territorio, dal sogno alla sua progettualità alla sua realizzazione. Questo fatto in una provincia come quella di Pesaro-Urbino che purtroppo nei dati, nelle marche risulta l'ultima per natalità di nuove imprese. Un servizio smart, innovativo, tecnologico che vede scendere in campo professionisti e consulenti specializzati che accompagneranno il nuovo imprenditore soprattutto nelle più delicate prime fasi della sua attività, fornendogli una vera e propria cassetta degli attrezzi colma di notizie e informazioni utili per dare slancio e nuova energia all'idea di business. Quindi se avete una nuova idea imprenditoriale presentatevi senza remora nei nostri uffici in tutta la provincia della CNA di Pesaro-Urbino troverete la giusta accoglienza e la necessaria esperienza per poi portare avanti la vostra idea di diventare imprenditori. Grazie quindi Moreno Bordoni, già ci ha spiegato di cosa si tratta ma noi per saperne di più abbiamo tre ospiti in studio. La prima che vi presentiamo è Monia Boncompagni che è una consulente fiscale di CNA Pesaro-Urbino. La seconda che è nella terza sinistra delle nostre ospiti è Monica Mazzoli, anche lei consulente fiscale CNA Pesaro-Urbino. Buonasera. E in centro siede invece Lucia Sgarzini che è direttore con fidi unico Pesaro-Urbino e poi ci racconterà di cosa si tratta esattamente. Buonasera. Partiamo quindi col nostro approfondimento perché ovviamente quando si parla di imprese, quando si parla di CNA si parla di servizi rivolte alle imprese e si tratta di capire come meglio svolgere le aperture, il lavoro quotidiano di tutte le imprese. Quindi iniziamo subito con Monia e partendo da zero, immaginatevi che io sia uno che viene a chiedervi ma io vorrei aprire un'impresa, un'azienda, come devo fare? Dunque il cliente quando arriva nei nostri uffici ha già un'idea di quella che è la soledità che vuole svolgere. Il nostro ruolo qual è? È quello di capire il suo obiettivo e in base al suo obiettivo quindi in base a una serie di informazioni che noi andiamo a chiedergli su come vuole improntare l'attività, capiamo qual è la struttura migliore per poi svolgere l'attività. Quindi scegliamo tra impresa familiare, società a seconda del tipo di attività. Poi subito dopo dobbiamo un attimo capire quali sono le esigenze che vengono richieste dai vari uffici per cui se ci sono degli adempimenti da portare avanti ai fini IMS, ai fini della Camera di Commercio oppure delle pratiche particolari che possiamo trovare nell'attività dove c'è la somministrazione di alimenti o altri tipi di attività per cui ecco dobbiamo inquadrare bene quali sono gli adempimenti iniziali da svolgere. Poi subito dopo quando abbiamo capito come va impostata l'attività procederemo subito l'apertura della PEC perché ormai è obbligatoria per tutte le imprese iscritte alla Camera di Commercio e per i professionisti iscritti agli ordini e oltre alla PEC la partita IVA è la prima cosa che andiamo ad aprire. In un secondo momento andremo a iscrivere il soggetto ai vari albi, alla Camera di Commercio, IMS e ENAIL e la cosa vantaggiosa è che tutta questa attività oggi si svolge con un'unica comunicazione che è comunica quindi con un'unica pratica noi riusciamo a inviare tutte queste informazioni ai vari uffici e questa è un'agevolazione. Agevolazione che otteniamo obbligando perché è obbligato comunque il cliente ad avere una smart car che è una firma digitale con la quale appunto noi dobbiamo sottoscrivere tutte queste comunicazioni. Una cosa importante che volevo sottolineare è, ha parlato di PEC, è un invito fatto davvero a tanti, a tutti di aprire una casella di posta elettronica certificata che tantissimi italiani ancora non ce l'hanno per tanti motivi, magari solo anche per delle difficoltà, mentre per esempio immaginate l'aiuto che potete trovare con un'associazione, con un aiuto pratico come quello di CNA, ecco la PEC è fondamentale perché pensate, basti dire questo, per esempio sostituisce le raccomandate. Quindi si può tranquillamente utilizzare la PEC per tutto un insieme di pratiche amministrative che altrimenti sarebbero molto difficili. Ma prima è stato accennato il discorso di che tipo di società conviene aprire e qui mi rivolgo invece a Monica Mazzoli. Perché? Perché l'ha appena accennato la collega ma in realtà conviene aprire una ditta individuale, una società, quale tipo di società? Sì, il dilemma diciamo principale infatti vengono da noi i clienti e ci chiedono se è meglio aprire una ditta individuale o una società. Allora innanzitutto bisogna vedere se l'imprenditore, colui che vuole attivare questa nuova attività è da solo oppure con i componenti della sua famiglia oppure con soggetti terzi. In caso intende avviare l'attività da solo allora noi consigliamo di aprire tramite ditta individuale o eventualmente impresa familiare se vuole collaborare con un figlio o la moglie o comunque all'interno della famiglia. La ditta individuale o impresa familiare è adatta per le attività di piccole dimensioni dove prevale il lavoro diciamo dell'imprenditore. Se invece arrivano diversi soggetti che si vogliono unire e vogliono avviare un'attività insieme allora consigliamo di andare dal notaio e costituire una società. Ci sono società di persone che sono un pochino più semplici da gestire oppure società di capitali fra cui oggi va molto di moda la SRLS società di responsabilità semplificata oppure la SRL la società di responsabilità limitata normale. Questo tipo di società, la SRL, è più adatta alle attività che richiedono, che prevedono un fatturato sopra 100-200 mila euro annui. e allora consigliamo di fare questo tipo di società, altrimenti la maggior parte dell'attività optano per una società di persone che sarebbe la società in nome collettivo o la società in accomandita semplice. Naturalmente avviare una società, sia che sia società di persone o società di capitali, richiede l'intervento di un notaio e quindi il cliente che viene da noi deve comunque sapere che dal notaio il costo è comunque maggiore rispetto all'avviare una ditta individuale o impresa familiare che rimane comunque sempre ditta individuale. Quindi diciamo le nostre opzioni che noi presentiamo al cliente sono queste, ditta individuale, eventualmente impresa familiare, società di persone che è quella intermedia oppure società di capitali che è la ditta un pochino più complessa. Quindi, e mi rivolgo a Moni e a Boncompagni, dopo aver sentito che si possono aprire diversi tipi di società e quindi ci sono modi diversi per gestire nuove imprese e nuove aziende, sicuramente questo comporterà anche delle differenze dal punto di vista fiscale. Sicuramente, infatti ad oggi abbiamo tre regimi fiscali differenziati che sono il forfettario, il semplificato e l'ordinario. Sono regimi contabili e fiscali diversi perché il forfettario è un regime introdotto ultimamente, negli ultimi anni, che va a dove possono rientrare quei soggetti che nell'anno precedente hanno fatturato meno di 65.000 euro. È un regime che va incontro alle nuove attività, proprio perché per la ridotta dimensione del fatturato ed è principalmente rivolto alle imprese individuali e ai professionisti. Poi, subito dopo, c'è il regime semplificato che è un regime che è una via intermedia perché mentre il forfettario non ha registri, non ha complicazioni contabili da tenere, il regime semplificato ha qualche elemento di contabilità in più, ma sicuramente non è complesso come il regime ordinario e possono entrare nel regime ordinario tutti quelli che hanno fatturato inferiore a 400.000 euro se parliamo di imprese di servizi, a 700.000 euro per imprese che fanno cessioni di beni fondamentalmente. Appartengono invece all'ordinario tutte quelle imprese che superano questi limiti, quindi sia gli imprenditori che superano questi limiti che le imprese e in questo caso hanno una tenuta della contabilità molto più complicata tant'è che mentre nel semplificato registriamo solo ricavi e costi qua registriamo anche quella che è la cosiddetta prima nota, quindi tutti i movimenti anche bancari e quant'altro e hanno comunque un obbligo di predisporre dei registri contabili come il giornale o gli inventari che sono comunque registri molto più impegnativi a livello contabile. Ok, e qui mi rivolgo di nuovo a Monica Mazzoli perché io sono un imprenditore questo progetto è rivolto a imprenditori, ad aziende che ripartono da zero, a start-up quindi anche magari aziende piccole e un'azienda tipica, ne stanno aprendo tanti in questo periodo nonostante i mille problemi legati all'attività, è un bar. Come faccio ad aprire un bar, Monica? Allora, a parte gli addempimenti iniziali che abbiamo visto, apertura, partita IVA e PEC che quelli sono comuni a tutte gli inizi e attività, il bar è un'attività commerciale quindi come tale è soggetta all'iscrizione in camera di commercio. Per iscriversi in camera di commercio bisogna rispettare determinati vincoli per quanto riguarda l'attività di bar soprattutto allora bisogna avere un locale idoneo a svolgere l'attività di bar quindi noi controlliamo che il cliente che viene da noi abbia un locale idoneo o poi di proprietà o in affitto è indifferente o incomodato e poi il titolare o un dipendente o un socio in caso di società deve avere dei requisiti professionali per poter gestire un bar o un diploma di una scuola apposita oppure avere avuto esperienza nel settore per un tot di anni o altri requisiti che adesso a memoria non ricordo benissimo ma poi a mano a mano quando ci capitano le situazioni poi si affrontano e si vedono insieme ma no, preferisco invece dedicarmi all'estetica ma tanto l'estetica in questo periodo quindi è un centro estetico? Allora un centro estetico anche per in questo caso apertura partita IVA, PEC, i soliti adempimenti e si tratta in questo caso di attività artigiana rispetto l'attività di bar è un'attività che richiede un diploma proprio di scuola di estetista appunto il cliente che vuole aprire un estetista di solito una ragazza una signora diciamo sono di sesso femminile deve aver seguito una scuola di 3 anni e deve avere un titolo abilitativo nelle mani per poter aprire dopodiché anche per questa attività necessita un locale un locale che addirittura deve avere un tot di metri quadri per ogni dipendente che lavora all'interno della struttura e poi dopodiché si può iniziare a lavorare sia per il bar che per l'attività di estetista bisogna iscriversi alla gestione poi IMSS di competenza con tutti i relativi obblighi previdenziali che ne derivano velocissimamente un libero professionista che decide di buttarsi sul mercato? l'attività di libero professionista è la più semplice perché non necessita dell'iscrizione in camera di commercio quindi è sufficiente aprire una partita IVA avere la PEC e poi iscriversi alla gestione previdenziale propria quindi se è un'attività protetta si pensi ai commercialisti, agli avvocati, agli architettici si iscrive alla propria cassa di competenza se invece non è un'attività protetta lo iscriviamo alla gestione separata quindi è l'attività più snella e semplice da avviare scendiamo nel pratico ancora con Moni a Boncompagni per capire poi esattamente che cos'è un business plan e perché va prodotto sì, dunque, il business plan è un documento che non è sicuramente obbligatorio produrre per aprire un'attività ma è sicuramente consigliato perché è quel documento attraverso il quale il futuro imprenditore capisce se la sua idea imprenditoriale comunque sta in piedi cioè valuta un attimo i potenziali ricavi dell'anno i potenziali costi e mi permette di capire se ha una fattibilità a questo progetto cosa che senza magari troviamo imprenditori che magari si avventurano in attività non redditizie quindi diciamo nefaste quindi sicuramente è un documento che va prodotto tant'è che è richiesto fortemente da tutti gli istituti di credito e tutti comunque gli eventuali finanziatori che nel finanziare un'attività, una nuova impresa ovviamente non possono prescindere dall'avere in mano un business plan e Monia Boncompagni ci ha proprio dato il testimone da poter passare finalmente a Lucia Sgarzini non ci siamo dimenticati di lei anzi tutt'altro è forse la degna conclusione del nostro discorso perché Lucia Sgarzini l'abbiamo detto è direttore di Confidi Unico che è collegata a varie associazioni di categorie fra cui CNA nel momento in cui questo business plan arriva sulle loro scrivanie e viene valutata la fattibilità di un'azienda Certo, Confidi Unico collabora con le associazioni di categoria perché nasce dalla volontà di tutte le associazioni di categoria di creare una struttura forte e permette di unificare tra di loro nel 2018 la maggior parte dei confidi della regione Marche espressione appunto dei vari mondi associativi e l'attività principale che fa il Confidi Unico è prestare garanzia alle imprese quindi chi ne ha più necessità sono indubbiamente le nuove imprese i nuovi imprenditori che partono è chiaro che mentre ci troviamo se ci troviamo di fronte ad un'impresa già esistente possiamo vedere i bilanci, la contabilità quindi l'andamento dell'impresa nell'ultimo periodo quando l'imprenditore è nuovo dobbiamo fidarci e fidanziare un progetto quindi dopo essere passato dalle colleghe di CNA l'imprenditore o l'aspirante imprenditore si presenta da noi e a quel punto unico valuta appunto la fattibilità di un progetto la capacità di rimborso perché da quel business plan deve emergere sia una redditività capace di mantenere l'azienda stessa perché poi chi avvia l'attività deve vivere con quell'attività sia la capacità di far fronte a tutti gli impegni presi da un affitto ad un'associazione che mi segue la contabilità a un finanziamento in essere quindi voi siete anche molto bravi credo di immaginare nel cogliere anche possibili agevolazioni cioè tutte le agevolazioni a disposizione per poter fare un finanziamento voi siete lì pronte a intercettarle e a trasmettere ai nuovi imprenditori questo indubbiamente esistono vari tipi di agevolazioni agganciate direttamente al finanziamento che possono valere magari hanno delle limitazioni ce ne sono alcune che per il neoprenditore non valgono altre che invece valgono solo per chi deve partire e parallelamente al finanziamento che è quello che mi serve per avere i fondi iniziali per poter pagare fare gli investimenti proprio per partire valutiamo anche quelli che sono le agevolazioni pubbliche a sostegno per esempio della via attività la regione Marche in particolare proprio in questo periodo ha aperto una finestra perché poi è già prevista una seconda finestra per maggio del prossimo anno ha aperto una finestra per agevolare coloro che ad oggi si ritrovano disoccupati che non hanno mai avuto una partita IVA e in qualsiasi forma abbiano deciso appunto con le colleghe di avviare decidono di partire in questo caso la regione prevede un contributo a fondo perduto di 20.000 euro per l'avvio semplicemente dell'attività presentando un progetto presentandolo come persona fisica quindi ok ho le idee chiare ho il business plan ho il progetto in testa mi dicono quello che devo fare ma non lo faccio e presento prima la richiesta e a quel punto se la regione decide oddio se la regione decide di agevolarmi io posso partire anche indipendentemente però se rientro in graduatori e vengo agevolato ottengo 20.000 euro a fondo perduto adesso è aperta proprio appunto la scorsa settimana se non ricordo male ed è aperta fino a fine dell'anno la possibilità di presentare queste domande benissimo Lucia Sgarzini ci ha riassunto a un certo punto tutto quello che si deve fare idea decidere cosa e con chi fare andare nelle associazioni di categoria nel nostro caso alla CNA a sentire come fare business plan e poi chiediamo la possibilità di avere i finanziamenti e ci sono dei finanziamenti a fondo perduto che mi viene da dire bisogna fare di tutto per cogliere quindi davvero molto utile questa chiacchierata noi ringraziamo quindi Monia Boncompagni grazie anche a te Monica Mazzoli e Lucia Sgarzini per essere state con noi a voi carissime amiche carissimi amici di Rossini TV auguriamo un buon proseguimento di serata grazie a tutti i nostri amici di Sgarzini 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 grazie a tutti i nostri amici di Sgarzini